Nell'episodio precedente sono andato a Laurentino 38, uno dei quartieri più duri di Roma ad imbruttire la gente del posto. E diciamo che non è finita proprio benissimo. Nel video di oggi invece ho voluto testare la potenza dei pugni della gente sempre di Laurentino 38. Dieci personaggi scelti, un solo vincitore. Chi sarà il più forte? Vi lascio direttamente al video. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Simone Workout. Siamo qui a Laurentino 38 a prendere bombe sullo stomaco dalla gente del posto. Mi hanno chiesto vai nei quartieri, guardate qua, guardate là e sono venuto. Fatti via cazzotti che ha gente di qua. Io sono preoccupato. E poi tocca da un lavoratore della Mona, San Basilio. Infatti facciamo una cosa, scrivete nei commenti il prossimo quartiere che vorreste vedere così noi in base ai vostri voti ci iniziamo a organizzare. Dieci secondi di tempo ci hanno, non gli fa cose strane. Speriamo di sopravvivere. Allora ragazzi miei, dopo averlo imbruttito, siamo qui con... Valerio. Valerio adesso mi prenderà bombe per sfogarti insomma. Dieci secondi di cazzotti forti qui sulla bocca del stomaco. Tre, due, uno. Vai, forte, sfondalo, sfondalo. C'è l'ha il cazzotto. Vai, 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 vai. Forte, tre secondi, due, uno, tempo. C'è l'ha il cazzotto. Grazie mille cara. Grazie. Allora ragazzi miei sono piuttosto preoccupato perché qui dopo averlo imbruttito... Braccio notevole, è qua, è qua. Dopo averlo imbruttito me devo far più a bombe da questo ragazzo. Ma ti hai fatto quello che è un girato? No, no, io non ho fatto niente. Sì. Ho fatto solo la galera. Non è vero, ma ecco quella è rilassante. Siete pronti, sono dieci secondi eh. Cioè dieci secondi? Assunta a birra, rispondalo, rispondalo. Come ti chiami? Vittorio. 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 Tre, due, uno, vai, 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 oh, 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 sei Vittorio, forte, sei, parco, sei, ancora, ancora, vai, tre, due, uno, tempo. Bene, ma sfondato, regà, ma sfondato, ma sfondato. Oh, guarda che braccetto. Ma sfondato regà, non sto scherzando. Ma sfondato, diciamolo che siamo iniziati all'Aurentino del 28, ma poi l'altro i quartieri ci vanno far rispettare. Abbiamo fatto prima di tutto per rendere pace tutti i quartieri, adesso vi chiederemo tutte le rivalità di una volta, per sconfare le vite suoi. Quindi sei pronto a sfondarlo? Siete prova. Eh, mo' abbiamo visto che hai appena portato la tua figlia in palestra a fare bugere, quindi è il grande Antonio. Il grande mancione, il grande maestro. Allora, io sinceramente sono preoccupato perché non so se preferisco piare i cazzotti o essi acciaccato, perché qui sto in bilico tra le due cose. Dopo i 10 secondi è tutto fuori. Siamo pronti. 3, 2, 1, vai. Oh, oh, sfondalo, 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 sì, sì, oh, oh, 4, 3, 2, 1, perle. Allora, certo, mi sentivo qua. Eh, ma sfondalo qua, sfondalo qua, sfondalo qua, sfondalo, 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 sfondalo. Non savo perché, ma arrivava tipo qua. No, pensavo con i fratelli, ho capito. No, ma che era bombe tirato. Lui a destra, io a sinistra. Comunque, ragazzi miei, i turisti, duri, eh. Allora, certo, mi sentivo qua. Grande. Allora, ragazzi miei, siamo qui con il super Luciano. Dopo averlo imbruttito, ho detto, vabbè, sfogate un po', fiamme a bombe. La mano destra dice che gli fa male, che c'è, il problema o scafoide. Anche con questo sparava. 10 secondi. Ti fa male a destra, ti dira col sinistro, non è un pugile, però sti cavoli, vai. Sti cavoli, c'è, 2, 1, vai, spara, forza. Oh, 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 a Lucia. Allora, vai, a Lucia. Vedi l'ombrellone armare? 3, 2, 1, tempo. Wow, a Lucia. C'è là, eh. È meglio di sinistra, vedi, è meglio di sinistra, vedi a parare. Ragazzi miei, siamo qui con... Costantino. Costantino. E sei pronti a prendermi a bombe? No, non lo so. Qui mi state sfondando lo stomaco, io non ce la faccio più, vuoi aggiungere qualcosa, gentilmente? Niente, con il Costantino vedo... Agguerrito. Agguerrito. Qua è Costantino. Questo non mi frega niente, questo viene poi la tirà. Fattivamo subito così. Allora, 3, 2, 1, via! Oh, 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 oh! Non sfondare. 4, 3, 2, 1, tempo! Ma sta sfondato! Com'era, no? È buono, buono. Bravo, Costantino. Io ho paura che l'altra un po' si sfona le mie macchine. Grande, oh, bravo, eh! Ragazzi, qui lo voglio presentare subito. Filippo, mio sparring partner. Ciao ragazzi. per le mani durissime di marmo, conferma pure Mattia, l'ho provato tante volte e non sono per niente contento di riprovarlo di nuovo. 3, 2, 1, vai! Allora ragazzi siamo qui con Valerio, dopo che ti abbiamo imbruttito, e dopo che è uscito da Regina Cieli un quarto d'ora fa, non scherzo. Adesso siamo pronti a testarlo con i pugni, c'è 10 secondi di tempo per ammazzarmi qui. Sì, è il timer. Pronto? 10 secondi, 3, 2, 1, vai spara, forte, forte, spollalo! Vai, vai, più forte, più forte, più forte, vai, 4, 3, 2, 1, tempo! Com'era no? Eh buono, ma ce l'hai? Ce l'hai? Carica? Che te frega, pronto a tutto. Grande, grazie Ole, grazie mille. Bello. Ragazzi siamo qui con il mitico super grandioso, come li chiami? No, sì, Alessandro. Grande Cirillo, allora, vieni spesso qui, vieni spesso qui. Con tanti amici li conosco da quando sono piccolo. Va bene, qui mi devi dare 10 secondi di cazzotti. 5, vediamo il fiato. Il problema è che potrebbe arrestarsi fuori e non partire mai più. Puoi essere che rimane qua solo. Tanto abbiamo comunque sì, al presidio sanitario, dentro la palestra c'ho io la responsabilità qui fuori. 3, 2, 1, vai! 3, 2, 1, tempo! Sì Cirillo! Grande Cirillo! Come stai rifiato, male? Tutto a posto. Ti ha fatto più male a me che a te. Allora, dopo aver preso, vabbè, non vi faccio spoiler se non avete visto l'altro video. Siamo qui con il mostro finale, ovvero con Roger, una bestia. Ricordiamo che comunque ha fatto combattimento a buoni livelli e io già ci sono spaccolato qui. Ma te la fassi video, sono problemi tuoi. Ma qui non mi difendi? No, sono 10 secondi. Mamma mia. Sarei pronto? Raga, un like e una preghiera per me e per questa lente. 3, 2, 1, 3... 3, 2, 1, tempo! Raga volevo morire, volevo morire. Per un attimo ho sperato, spero che svengo così mi sento più. bravo Rocco non si fa ripare ahah ahah non si fa ripare per favore rega sono scondato prossimo quartiere per bella Mona, da San Basilio scrivetelo nei commenti più votato Tuffello, Torma Arancio bella rega grazie a tutti Cristian Scaccio Mattia Faraura 45 minuti stiamo sul link ok? tu quanto ti scambi? 20-30 minuti massimo ok iniziamo via via vai vai no grazie 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 è in parte dei nostri due collette di magari qua c'è la c'era c'è la c'è la c'è la c'è la b ribbietta è una c'è la dipendendo, oltre che accorgi si dipendendo, ok?